Siamo lavorando su una nuova challenge per l'Audi Tron PaperBot Series e sono cercato di un nuovo tatticiano. Non so se mi potrei riuscire. Penso che puoi avere un posto qui. Hai qualche idea per i membri del crew? Sì, per quanto riguarda tutti gli italiani. Quindi mi chiedo anche di Vasco Vascotto? Sì, sono un tatticiano. Sì, possiamo essere un tatticiano. Se siamo un tatticiano, potrei riuscire. Inoltre è meglio, perché stiamo facendo una grande messa. Checo, cosa sta facendo? Stai guidando? Penso che puoi guidare, come preferisci. Per me sono troppo vecchio per guidare. Non più Robertissima, non più Infanteriba. No, Robertissima, non posso. Questo è un tatticiano molto serio. È come Dixan. Ti dico due diverse... Bocce? Bocce, invece di una. No, prendo una bocca. Ok, quindi possiamo raggiungere l'accordo? No, se non ando con Robertissima. Beh, voglio Vasco Vascotto. Sì, vorrei venire. Per sicuramente. Ok, vorrei fare la bocca. Puoi venire con me? Sì, ovviamente. Potremmo in inglese è meglio, eh? Ah, sì, sì. Naturalmente. Ovviamente. Mast. Bocce è troppo forte per me. Sono molto vecchio. Mast. O il clio. Sto dicendo il clio come nessuno nel mondo. Allora, intanto è meglio aprirla in modo tale che hai più superficie. È vero, in modo tale che stai a galla. Per quello che ora ne farei una qua. Una qua. E dopo spera, invio. We need a new paint on that. Blue for sure. Like vitamina? Esatto. Sì. Hai mai provato di mettere questo sul tuo cuore? Potrebbe funzionare. Potrebbe funzionare. Ho un problema con il stick del mio rudder. Può venire in un trailer europeo. Hai qualcosa per me? Assolutamente. Il blu è meglio. Perché mi suggerisce di dare un blu peint in la bocca. E funziona. Ora abbiamo un stick per la bocca. Ho un nuovo challenge. Per l'Audi Tron Paperboat Series. Posso lasciare il mio peintino a te per lavorare? Assolutamente. Mi dicono di mettere un peintino. e lavorare sulla crew. E io penso che puoi lavorare sulla settimana. Assolutamente. Qualcuno mi suggerisce che ho bisogno di un maschio più alto. Che pensi di questo? Prima di tutto. Hai dinero? Ho molto dinero. Quindi possiamo parlare. Hai pensi di avere alcune vendite 3Di o 3Di? L'unica scelta è 3Di. Raw. 3Di Raw. Edizione. È la versione blu. Questo è meglio che il blu? È meglio, ma è un po' più piccolo. E' un engine ambientale fondamentale. Torchido. Buriani tanto. Nooo. Certo. No, non voglio. Mi piace. It's time to be friend of the green. I have an environmentally friendly engine. Torchido for my paper boat. Kom thành. La consigane. In.